Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso, tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12, 2 km di code a tratti per lavori tra Sarzana e l'allacciamento con la 15, in direzione Genova. A Pisa Nord è chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e la 12, spostandoci sulla Fipilin in direzione Mare e rallentamenti per lavori tra Pontedera Est e Pontedera Ovest e Ponsacco. Sul raccordo Siena-Firenze si segnalano rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta e tra Monte Rigioni e Badesse in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!